Candiana, infortunio sul lavoro che poteva finire in tragedia con un operaio rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto con i cavi elettrici di una tenso struttura. Il 27enne, residente a Porto Gruaro, nel veneziano, stava smontando la struttura, operazione probabilmente ripetuta in passato centinaia di volte, quando improvvisamente, maneggiando alcuni cavi elettrici, è stato colpito da una forte scossa ed è caduto a terra. Immediati soccorsi da parte di altri operai presenti, quindi l'intervento del 118 e il trasporto all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato con numerose ustioni, ma non sembra in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal per ricostruire l'accaduto e verificare le condizioni di sicurezza.